Le sfide dell'Africa del Sud, come il disarmo e la lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali, sono state al centro dell'udienza di Papa Francesco al Presidente della Repubblica di Mozambico, Armando Emilio Guebuza, che ha poi incontrato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da Monsignor Antoine Camilleri, sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Durante i cordiari colloqui sono state evidenziate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di Mozambico. In tale contesto non si è mancato di fare riferimento al fondamentale contributo della Chiesa Cattolica allo sviluppo del Paese attraverso le sue istituzioni di carattere educativo e sanitario e al suo importante ruolo nella promozione della pace e della riconciliazione nazionale.